Festa Villa Rendano è uno spettacolo concerto, ci tengo a questa definizione perché è uno spettacolo di prosa ma anche di musica classica che è diviso equamente nell'ora di rappresentazione, mezz'ora di recitazione e mezz'ora di musica classica. È uno spettacolo itinerante in 5 stanze e 5 movimenti come un concerto che approfondisce un po' la storia di Alfonso Rendano, il nostro illustre concittadino al quale è intitolato il teatro comunale, ma nello stesso tempo dà uno sguardo su un uomo ricco di inquietudini che è vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, quindi è la metafora dell'uomo in generale. È in preparazione una versione estiva da fare sulle terrazze di Villa Rendano con il pubblico sotto che ci guarda. Siamo qui su una terrazza e qui abbiamo il centro storico di fronte a noi. Ecco, questa può essere un'idea per l'estate, però nel frattempo ci godiamo le ultime repliche dell'inverno e stiamo per andare in scena oggi e domani concluderemo questa esperienza dopo quattro fine settimane consecutivi.